L'intero Gepard e Daniele Adani torna il grande show della Serie A Team su queste frequenze. Sfila che ha anche un bel duello a distanza tra le panchie, tra le mancherie che si stimano e che faranno di tutto per portare a casa il match. Il grande calcio è a casa sua in questi scherzi. Quindi preparatevi, create la situazione giusta perché ho la sensazione che ci divertiremo. Grazie a tutti. 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 si inserisce bene e recupera difesa scoperta ha spazio per andare Ian Accio ottimo intervento in copertura si ricorda il giocatore pubblico di lasciare come l'avete trovato ecco Martinez Le Mar inesca a Le Mar Ian Accio ripartono a casa del pari forse aumentano l'intensità della spinta e provano a trasmettere tutta la loro energia ai giocatori in campo può far male da lì assegnato ed è un paresco americanissimo rivediamo ancora rifletti sembravano sul punto di capitolare da un momento all'altro ma qui hanno trovato una rete che potrebbe cambiare la nostra del meglio hanno parecciato ovunque 1-1 con il numero 9 telegi Ancora guarda la giocatore Zoboslay riconquista una palla qui riconquista una palla qui vittoria un buon tackle recupera palla Le Mar Lautaro Lautaro Martinez attenzione alla possibilità del contropiede un giro interessante ma in offside cambi da una parte e dall'altra ancora due minuti da giocare ancora due minuti da giocare Caglia dunque in parità il risultato mi sembra giusto Sì Pier le due squadre come abbiamo visto non si sono risparmiate le hanno provato a portare a casa i tre punti è uscita una partita che è rimasta empirico fino al novantesimo è uscita una partita Grazie a tutti. 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 Trava da girare la difesa. Palla in rete. È arrivato dunque il primo gol. La regia ci manda il replay del gol. Palla che si è infilato all'altezza del primo palo. Da rivedere il posizionamento del portiere ovviamente. E non ha coperto bene. No no. Ed ecco dunque. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Intercetta è un buon pallone. Attenzione. Attenzione. una parata che tiene una parata che tiene un'altra parata che tiene un'altra parata che tiene un'altra parata. Una parata che vale come un gol. Adesso provano a venire avanti. Ha un'autostrada da avanti a sé. La coltida troppo sotto. Qui palla sopra la travenza. Anche perché da quella posizione ci vuole una grande sensibilità per tentare una giocata del genere. Accompagnano l'azione. Può avanzare il disturbato. E c'è il gol. E sono avanti di due adesso. Poteva dribblare il portiere e scavalcarlo col topo sotto. Ha scelto per la soluzione di potenza. Ci sta. Match che riprende. L'allugato portandosi sul 2-0. Si giocherà per altri 60 secondi. E così finisce il primo tempo. Un'altra. 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 L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Fa su il pallone con un intervento pulito. Fabio Silva può girarla. Buona riflessione qui. La ciopetta di trago per portare da lì. La riflessione non può iniziare il porto. Travi gli allenatori vanno abbracciando corse fresche. Grande appuntamento ed arrivo qui su ADB, una delle gare più attese della stagione. Amici non perdetevi questo appuntamento perché ho la sensazione che ne vedremo delle belle. E dito la mia parola. Valente verticale sull'attaccante. Per quel tiro, grande parola, che riflesso. Sostituzione in arrivo. C'è l'importante della bandierina, eh, Pier? Io credo, però, frascinare lo squadro in gol, diventerebbero lo svantaggio. Il contatto, Andrea Colpani. Plasso al centro. Interviene e sventa il pericolo. Occhio al tiro della bandierina. Nessun problema qui. Usa bene il fisico qui. Palla per San Maxime. La metta nel mezzo. La punta viene avanti. Possibilità di contro avere, attenzione. Ecco il prossimo incontro che gli appassionati potranno seguire in diretta, sempre qui su EATV. Entrambe praticano un calcio spiccatamente offensivo. La ricerca costante del gol. Mi piace, eh. Sono... C'è occasione di approfittarne? Il riflesso del portiere, ma pallone ancora in gioco. Può tirare un sospiro di sollievo. Qui il portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla confusione di prima. Questa è stata più agevole. Tutta la squadra avversaria era già pronta a risultare. Non devono averla presa bene. Pallone sul fondo. Si ripartirà con il portiere. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Sostengono la manovra qui. Gioca lunga qui. E c'è il gol. Quello della sicurezza. Sono avanti di tre adesso. Rete che va però divisa a metà con l'autore del cross. Davvero magnifico. Come possiamo apprezzare anche da queste immagini. E poi riuscito a superare il portiere con una gran botta di controbalzo. Gesto tecnico che merita di essere rivisto, eh. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Interviene, intercetta il passaggio. Ie Anaccio. Errore. Il pallone è riconsegnato. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. Controlla il possesso del pallone. Ha la palla buona. Intervento facile per il portiere. Così può bastare. Tre punti d'oro per la squadra ospite. Un successo largo frutto dell'ottima prestazione di squadra. Oggi per loro ha funzionato tutto senza spavatore direi. Come in un meccanismo perfetto. Grazie a dobry. Grazie a tutti. Ciao a tutti. A presto. Grazie a tutti. 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 pallone in mezzo. Grazie a tutti. Moro. Grazie a tutti. 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 Allora, Grazie a tutti. l'arbitro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. il rischio si impone la squadra di casa un successo strameritato protondo mai in discussione hanno preso in mano il palino dal primo minuto e non l'hanno più mollato. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.